Andiamo! E' il miglior tempo per ora! Ma questo non ci aiuta a trovare il ninja della notte! Infatti non c'entra niente con la missione! La pigiolucertola è il potere della telecinesi! Scopri perché! L'ho certo le sguscianti! Deve aver mangiato la piccicosissimus! Ma come? Genio al lavoro! Sto pensando! E adesso ho un piano! Posso dirlo! Lionel è in forma! Può essere un eroe! Bene, ma come mai il potere di Lionel è comparso dopo la notte alla montagna misteriosa? Strano tempismo! Sì, ma dovete comunque ammettere che il suo nuovo potere è fantastico! E pigiolionel è un nome che gli dona! Non possiamo portarlo in una vera missione! Potrebbero calpestarlo! E non sa parlare! Come voi non riuscite a muovere un oncomobile solo con lo sguardo! Vero Lionel? E' sparito! Non sarà lontano! Udito gatto! Io non lo sento! E io non lo vedo! Forse si è offeso perché non può essere un super pigiamino! Sarà scappato! Alla Giacomobile! Clicca sullo schermo per vedere altri video! E vai su Disney Junior per seguire i tuoi programmi preferiti!